Buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale. Mezzanotte, quasi quattro minuti, proprio ora. Cominciamo con la politica. Oggi a Roma è arrivato Beppe Grillo per cercare di dare una scossa alla crisi del Movimento 5 Stelle. Ha ribadito fiducia a Luigi Di Maio. Dobbiamo continuare a confrontarci e lavorare con il Partito Democratico. Il commento di Zingaretti è stato bene il confronto all'interno del Movimento. Confrontiamoci anche noi per l'agenda del prossimo anno. Vediamo. Il referente è lui, il capo politico del Movimento è lui. Gli starò vicino e sarò un po' più presente. Il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, arriva a Roma e cerca di arginare le critiche interne che investono Luigi Di Maio, confermandolo nel ruolo di capo politico. Una scelta che non convince tutti i pentastellati. Resta forte, infatti, il pressing di coloro che ne chiedono la sostituzione. Ma Grillo spinge anche per un rinnovato accordo con il PD per rilanciare l'azione di governo. Parole particolarmente gradite al leader Dem Zingaretti che assicura, pronti al confronto, un passo in avanti per andare oltre una mera maggioranza di parlamentari. Bisogna chiudere al meglio la manovra di bilancio. Dobbiamo costruire un'Italia più giusta, verde e competitiva, una nuova agenda per il 2020. Ma la disponibilità di Grillo accende una speranza al Nazareno per riaprire la partita dell'alleanza PD 5 Stelle in Emilia Romagna. Nonostante il voto sulla piattaforma Russo, che invece l'ha bocciata. E un altro segnale in questa direzione arriva dal ministro dello sport Spadafora, il quale a proposito del prossimo voto regionale dice «La prima scelta degli attivisti in Emilia Romagna e Calabria è stata di candidarci da soli. Adesso, se in quelle regioni si riapre il dibattito e si vuole anche ripensare da una possibilità di un'alleanza con il PD in tutte e due o in una delle due, perché no?» E Bonaccini propone «I 5 Stelle riflettano, con me possono entrare per la prima volta al governo di una regione». Ma dall'opposizione Matteo Salvini attacca. Il video Grillo di Maio è surreale. Hanno rubato un sogno a milioni di italiani svendendo il cambiamento in cambio di qualche poltrona offerta dal PD. Sono passati al PD e a Renzi. E poi torna a invitare i 5 Stelle delusi a sostenere la Lega. Continuano ad arrivare segnali positivi dalla trattativa sull'ex Ilva. L'azienda Arcelor Mittal ha fatto sapere dopo un incontro con il governo di essere interessata ad un accordo per una produzione sostenibile a Taranto. La multinazionale ha inoltre fatto sapere che entro il 2 dicembre il 60% delle fatture scadute dell'indotto sarà pagato. L'esecutivo è pronto a ricorrere alla Cassa Integrazione pur di evitare i 5.000 esuberi annunciati. Sarà in ogni caso un lungo negoziato. Mercoledì prossimo al Tribunale Civile di Milano. Udienza per il ricorso presentato dai commissari straordinari dell'ex Ilva. Proprio per facilitare la trattativa, gli stessi commissari potrebbero chiedere un rinvio. Adesso ci occupiamo dell'ondata di maltempo che sta colpendo alcune zone d'Italia. In particolare tornata la qualta a Venezia in serata 111 sono i centimetri. Ma poi in particolare il Piemonte e la Liguria sono in condizioni critiche. Tra le province dell'Alessandrino ma anche quelle di Torino e di Cuneo ci sono 115 persone che hanno dovuto lasciare le loro case. Tra l'altro Torino tra meno di 12 ore è previsto l'arrivo della Piena del Po. Persone evacuate dalla zona golenale del Po anche nell'Odigiano, San Rocco al Porto e poi allagamenti a Savona dove il sindaco ha chiesto alla popolazione di non uscire di casa. Allevamenti anche in Val Polcevera a Genova. Poi c'è una notizia che è abbastanza inquietante perché proprio in Liguria, nel Savonese in particolare, è stato stabilito un record e cioè dal primo di ottobre ad oggi sono caduti 1.724 mm di pioggia ed è la quantità che cade abitualmente appunto in un anno tra i 1.700 e i 1.800. Vediamo il servizio. Sarà un'altra notte difficile in Liguria e Piemonte dove la protezione civile mantiene rossa. Fino alle 3 di domani pomeriggio l'allerta maltempo. I fiumi e i loro affluenti dal basso Piemonte alla Liguria sono in piena. L'acqua continua a battere forte da ieri sotterreni ormai saturi. È stata una giornata dura a Genova in tutta la Val Polcevera, soprattutto nella zona intorno al cantiere del nuovo ponte. Nella notte si erano allagati alcuni sottopassi e i vigili del fuoco hanno librato automobilisti bloccati dall'acqua che saliva. L'esondazione del figino ha provocato allagamenti, frane e smuttamenti dall'entroterra fino a riva, con le mareggiate alimentate dal vento di Scirocco che da Renzano ad Alassio non permettono all'acqua dei fiumi di scaricarsi facilmente in mare. Nel Savonese il Bormida ha rotto gli argini risalendo verso il Piemonte e la situazione durante tutta la giornata non è migliorata. Sono i piccoli rie e i torrenti a non tenere più. Qui a Spinetta Marengo il Lovassina esondato ha rimandato indietro gli scarichi dell'acqua piovana in arrivo dal paese che così si allaga, come era già successo un mese fa. Lo stabilimento Ferrero di Alba ha sospeso la produzione e posizionato alle paratie di difesa per timore della piena del Tanaro. Soffrono le strade provinciali in base dall'acqua, un ponte aborgorato alessandrino è crollato. Il Po è in piena da questo pomeriggio, i murazzi che si affacciano sul grande fiume sono chiusi e l'Agenzia per il Po ha previsto nelle prossime 36 ore fasi di criticità elevate in alcune zone. Chiusa l'autostrada Torino-Aosta tra Ivrea e Pons San Marten nelle due direzioni per il timore di una frana e sotto osservazione di nuovo a Venezia a livello del mare. Dopo qualche giorno di tregua ritorna. Domani l'acqua alta alle 8.50. Si aspetta una marea di 140 centimetri. 149 persone, di loro 13 donne e 3 bambini sono state salvate oggi in serata davanti a Lampedusa. Si trovavano su un barcone di legno, probabilmente partito dalla Libia, che si è rovesciato non lontano dall'Isola dei Conigli. Ci sarebbero tra i 15 e i 20 dispersi. In questo momento motovedette, elicotteri e aerei della nave della Guardia Costiera, della Marina e della Finanza, sono impegnate appunto nella ricerca. Adesso andiamo negli Stati Uniti perché dopo le frasi sibilline pronunciate tra ieri e oggi via Twitter da Bolton che ha fatto capire di essere pronta a testimoniare anche contro il Presidente, sono arrivate altre frasi da parte dell'Avvocato del Presidente, Rudolf Giuliani. A un giornalista che gli chiedeva se il Presidente fosse pronto a scaricarlo, ha detto, non mi risulta e comunque in quel caso ho un'assicurazione. Giuliani non ha specificato altro, ma su di lui sono arrivate nuove ombre, documenti ottenuti e pubblicati da una ONG, dimostrano che la scorsa primavera ebbe contatti ripetuti col segretario di Stato Pompeo, al quale consegnò le carte raccolte contro Biden in Ucraina. Proprio in quei giorni Trump stava richiamando l'ambasciatrice a Kiev, Jovanovich. In un clima di massima tensione, tra poche ore a Hong Kong si andrà a votare. Si tratta di un voto distrettuale, locale, che però può trasformarsi in una richiesta di maggiore democrazia e dal quale potrebbero arrivare dei segnali importanti per la contestata governatrice Carrie Lam, da mesi al centro di proteste e di attacchi. Oggi intanto sono scese in piazza, accanto ai giovani, le famiglie che hanno organizzato una marcia e hanno chiesto la cessazione dell'uso dei lacrimogeni, soprattutto vicino alle scuole e alle università. Si calcola che siano 9.000 i candelotti lanciati da giugno ad oggi, da quando sono iniziate le proteste. Adesso andiamo a vedere com'è andata con il campionato di calcio, tre le partite giocate. Pazienza, talento e un po' di fortuna. Così Maurizio Sarri a Bergamo strappa tre punti pesantissimi. Contro l'Atalanta, che può recriminare anche per un rigore sbagliato e una traversa quando il match era solo 0-0, la sua Juventus ha avuto bisogno di tutte queste doti per uscire vincente da una sfida in salita dopo il gol di Gosens al 56esimo. Lasciata sbollire la furia agonistica degli uomini di Gasperini è però emersa la classe di un Dybala che non ha fatto sentire la mancanza di Cristiano Ronaldo, unitamente a una dose di buona sorte. Iguaini ha trovato la furtuita di reazione in gol da parte di Toloi e da quel momento la maggior qualità dei bianconeri ha prevalso, con ancora Iguaini e infine lo stesso Dybala a suggellare una ripartenza di campionato che lancia la sfida di Champions di martedì con l'Atletico Madrid. Resta in scia l'Inter dei record, miglior partenza di sempre in 13 turni. Su un campo pesantissimo, i nerazzurri hanno centrato la settima vittoria in sette trasferte a Torino approfittando anche della prematura uscita del bomber Velotti per infortunio. L'1-2 con Lautaro, se starete in campionato, e De Vrij, entrambe con complicità della difesa Granata, ha atterrato un Torino che ha trovato un andano vicino in stato di grazia e che ha dovuto arrendersi dopo il terzo gol di Lukaku, decimo stagionale. Sempre più lontano invece il Napoli che a San Siro non va oltre l'1-1 contro l'altra big malata, il Milan. Al gol di Lozano, il migliore tra i partenopei, i padroni di casa hanno replicato con un ritrovato Buonaventura soltanto cinque minuti dopo. Il punto a testa spezza la serie di tre sconfitte consecutive per Pioli, comunque al minimo storico di punti, mentre allunga la striscia senza vittorie per il grande ex Ancelotti, poco positivo viatico verso la sfida di Champions mercoledì a Liverpool. È il mezzanotte e 13 minuti in questo momento, questo era l'ultimo servizio di questa edizione. Ci fermiamo qui domattina alle 7, come sempre ricomincia l'informazione, arrivederci, buonanotte.